Com'è che ti faccio dire? Siamo a pranzo? Siete venuti fino dalle vostre case per trovarci a Biovital? Allora, mi hai portato due marea perché io tutte le mattine riempio un bicchier d'acqua di Biovital, poi col tappo ne metto due. A digiuno metto due marea dentro alle perché questo ricordano già i minerali del fondo del mare. Esatto, minerali organici che si differenziano tutti gli integratori che sono quasi tutti di origine sintetica, quindi creati in laboratorio. Questi sono naturali, sono 92 minerali. E che bene fanno? Che cosa fanno? I minerali aiutano i tessuti, quindi pelle, unghie, capelli, tutte le cellule hanno bisogno di minerali per poter respirare. Quindi più minerali organici diamo, meno fa fatica la cellula a depurarsi. Quindi è fondamentale. Ma si sente, tu avrei percepito il potenziale di marea. Certo, quindi Biovital più marea è l'acqua. È l'acqua minerale più potente che possa esistere. Assolutamente sì, perché vendiamo appunto i minerali biodisponibili con una struttura molecolare biodisponibile. E quindi il corpo si depura facilmente. Subito, se si inizia a prendere marea nelle dosi giuste, poi ognuno ha bisogno di una dose personale comunque, la depurazione parte subito. Poi chiaramente uno stile alimentare corretto fa il resto. Questo è vero Guy, che è fantastico. Sai chi l'ho dato? Allora c'era un mio amico, che è Kim, che ha negozi di frutta lì. Quello dove c'è andato a prendere marea. Ah sì, ho visto il video. Lui viene dall'Albania. Allora stavo finendo il vasetto, glielo ho portato un pochino perché Giovanna giovanile voleva assaggiare. Lui l'ha preso e un po' diceva, ma no ma il sapore che io sentivo quando ero bimbo. È così. Questo prodotto ti riporta esattamente a quando ero bimbo. Ora, noi che abbiamo dai 40 anni in su ce lo ricordiamo. Adesso i ragazzi da adesso purtroppo non hanno memoria. Ma le cellule se lo ricordano. Certo. E le cellule, questo grasso, perché il grasso fa inorridire, no? La parola grasso fa paura. In realtà questo è un grasso che fa parte della membrana cellulare. Quindi è un grasso puro che aiuta l'organismo a nutrirsi e a depurarsi. Infatti qui ci sono tutti gli ingredienti. No, ma poi dobbiamo andare a vedere dove lo fanno. Sì, sì. Ti ricordi che dobbiamo andare a vedere nel pascolo dove lo fanno? Poi lo abbiamo usato per friggere ed è pazzesco. Bravo. Cioè non c'ha l'unto. Esatto. La frittura con il ghi è perfetta perché il ghi non brucia sotto i 250 gradi. Siccome la frittura è 190, tu il ghi che hai usato per la frittura lo potresti riutilizzare per friggere ancora. Perché non si rovina. E soprattutto non è cancerogeno. Assolutamente. Sono cancerogeno. Io Vital? Guarda come è scombinato. Come è scombinato? Sono qua. No, hai tutti i cappelli. Ah, sì. L'ho fatto apposta stamattina così. Perché venivo a trovarti e poteva così arrivare. Sta arrivando? Nooo. Nooo. È via aereo questo? È certo. È certo. Manco via aereo. Dovete sentire. Da negozi al ristorante in macchina. Da negozi al ristorante in macchina. Ma non è il mango ragazzi. Vabbè. E' il momento che ti lasciato un piatto. Sì, un piatto, certo. Ah, noi aspettiamo. No, voi state in primo. No, biovitare adesso. Cioè andando in vacanza io lo svito, me lo porto con me. Certo, assolutamente. Come fanno? Hai un tutorial per pulirlo? Perché lo devo pulire? no perché non è necessaria manutenzione cioè pagata perché si fa con l'aceto esatto l'aceto e sale che si fa una volta al mese e beh nel libretto che dicevano le persone c'è scritto e ci sono anche i tutorial sul sito si trova tu anche il tutorial sul sito c'è il tutorial allora metto il link del sito ok ragazzi grazie a BioVital grazie a Maria Veroghi e anche come vedete fammi vedere guarda abbracciare il BioVital infinito guarda e fratelli di bracciale di bracciale magnetico bracciale magnetico che funzione ha? migliora la circolazione del sangue quindi fa sì che tu abbia un'energia diversa in termini proprio di ossigenazione del sangue agitando le particelle di ferro che sono nel sangue perché ci sono i magneti perché all'interno ci sono i magneti aspetta vediamo facciamo vedere dare perché ma all'OM di Rimini ho incontrato quello che lo fa certo esatto Enrico Bobo no all'OM di Rimini l'hai incontrato con Alberto Ferrarini ah con Alberto Ferrarini sì l'ho incontrato lui fa questo in sezione aurea e ci sono dei magneti qua sotto vedete questi magneti agiscono sul sangue oltre la frequenza della sezione aurea la frequenza della sezione aurea è in forma eh sì eh no mi ha detto ma vieni a vedere come lo faccio eh sì perché vi ho detto più volte che si vede che un giorno passasse di qua perché c'è sai c'è ancora l'artigianalità è padovana c'è suo padre che è il padografo da sempre insomma è una bella cosa per farli bisogna ognuno deve essere impernato a mano c'è il campo magnetico c'è un campo magnetico che è incastonato dentro una sua sezione particolare e poi vieni chiuso e facciamo un lavoro importante e quindi ci vuole un po' farlo anche io mi butto il telefono sì vai sì 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 sì